grazie a Dio la parola ancora si adempie non è cambiato nulla è chiaro che quelli che sono scritti nella Bibbia le donne che erano sterili e che poi hanno avuto un figlio sono scritti nella Bibbia e sono stati scritti per un piano di Dio perché doveva arrivare a noi ma quello che Dio ha fatto in questi secoli saranno tanti figlioli che saranno arrivati sulla terra anche se le donne erano dichiarate sterili io dico donne ma può essere anche un problema dell'uomo cioè non per forza è legata alla donna però comunque sia, siccome si è un corpo solo quando ci si sposa uomo e donna diventano una cosa sola quindi alla fine non cerchiamo un colpevole fisicamente per quanto riguarda la sterilità il fatto è che non arriva non si concepisce però attenzione, ho intenzione oggi anche di citarvi alcuni passi questa sterilità è una cosa diciamo scientifica che c'è nel corpo umano ma il Dio che ha fatto il corpo umano lo può e qui entra in gioco la fede il corpo umano può essere modificato cioè se noi crediamo abbiamo fede in Dio e crediamo nelle guarigioni divine noi dobbiamo credere anche che Dio può superare il problema della sterilità dell'uno o dell'altro non importa di chi può superarlo può operare potentemente e far arrivare dei figlioli come è successo abbiamo sentito anche la testimonianza di Cati adesso non mi ricordo se ne ha parlato qui in conferenza oppure se l'aveva raccontata quando era a Roma quando ci siamo incontrati però mi ricordo che anche lì anche in quella famiglia per dire c'è stata il Dio ha operato quindi vedete ha operato è vero in grandi servitori di Dio certo ma ha operato anche con le persone comuni con le persone normali che comunque servitori di Dio sono lo stesso se hanno creduto nel Signore Gesù Cristo quindi tutto è legato alla fede alla fede e alla volontà di Dio perché? perché può essere anche che la volontà di Dio sia quella che una coppia di persone non abbia dei figli cioè il Dio può anche aver decretato questo però prima di smettere di pregare e di chiedere figli il Dio deve dircelo chiaramente capite? quindi fino a quando c'è vita fino a quando uno si sente deve pregare Dio per avere anche se lo desidera anche per avere anche dei figli quindi non bisogna scoraggiarsi non bisogna abbattersi io partirei con citare qualche passo delle scritture per esortare per farvi capire come il Signore ha operato in passato e siccome le cose che sono scritte per l'addietro sono scritte per nostro ammaestramento questo significa che quello che Dio ha fatto in passato lo può fare ancora oggi cioè non è che oggi la mano di Dio si è raccorciata è sparita e non opera più capite? cioè questo è importantissimo il Dio non è mutato ci tengo ancora una volta a dire quello che è mutata è la legge c'è stata una riforma per quanto riguarda la legge che concerne la salvezza cioè la riforma la salvezza è stata sempre per fede in verità però la legge per tanti secoli la salvezza si basava almeno quella esposta perché la salvezza per fede era nascosta nella legge di Mosè perché la legge di Mosè ci portava gli uomini a capire che non potevano essere salvati attraverso le proprie opere va bene? non potevano essere salvati e quindi avevano bisogno di un intervento di Dio ecco qui della salvezza per grazia mediante la fede in Dio quindi la legge guida le persone ad avere fede per ottenere la salvezza per grazia perché la fede diceva se uno se uno osserva tutti i comandamenti della legge senza fallirne neanche uno allora sarà salvato perché è riuscito ad osservare la legge e tutti i comandamenti ma questo non è possibile sappiamo bene che nessuno tranne Gesù Cristo è riuscito a osservare tutta la legge sì perché Gesù è l'unico che ha osservato tutta la legge in tutte le prescrizioni è l'unico nessun altro uomo è riuscito per gli altri uomini la salvezza quindi Gesù era un esempio di fede ma anche di opere capite cioè Gesù avrebbe potuto essere salvato era gradito sia per le opere della legge che osservava e sia per quanto riguarda la fede che aveva in Dio perché anche nella legge si esortava ad avere fede in Dio quindi cosa è successo è successo che è venuto Gesù Cristo e c'è stato un cambiamento di sacerdozio il nostro sommo sacerdote discendente di Giuda non più non più da Levi perché la legge era basata sul sacerdozio levitico e c'è stato un cambiamento di sacerdozio di conseguenza c'è stata una riforma anche per quanto riguarda la legge quindi oggi noi non siamo più sotto la legge perché abbiamo creduto nel nostro sommo sacerdote nel nostro duce e perfetto esempio di fede che è Gesù Cristo quindi abbiamo creduto in Lui siamo morti in Lui alla legge e siamo risuscitati con Cristo capite spiritualmente quindi siamo rinatti spiritualmente ora non siamo più quelli che sono nati di nuovo non sono più sotto la legge quindi sono graditi a Dio per mezzo della fede non siamo più legati all'osservanza della legge e quindi il cambiamento vedete un cambiamento con l'avvenuta di Gesù c'è stata ma non è la fede il cambiamento non c'è stato nella fede che l'uomo deve avere in Dio nelle opere che Dio compie potenti guarigioni liberazioni i doni che distribuisce al suo popolo ai suoi servi cioè il cambiamento non riguardava le opere che Dio fa capite il cambiamento è stato solo una questione di di rivelazione agli uomini e un'apertura maggiore ai gentili praticamente per ottenere la salvezza quindi la salvezza per mezzo della fede è stata proclamata non più soltanto al popolo di Israele ma a tutti i popoli al popolo di Israele e anche a tutti gli altri gentili questo cambiamento c'è stato ma non c'è stato il cambiamento che Dio oggi non guarisce più non fa più partorire non visita più le donne per farle riconcepire capite quindi non si può pensare che oggi il Dio sia mutato l'opera di Dio sia mutata no e attenzione questo discorso è importante perché da questo dipende la tua vita cioè quello che tu credi di Dio e della Bibbia quello che tu pensi modifica la tua vita di tutti i giorni quindi non sto dicendo non sto citando qualcosa di poco importante io ti sto citando forse la cosa più importante dopo il messaggio dell'Evangelo che è quella di avere fede in Dio in quelli Dio chi? quello che c'è scritto nella Bibbia da Genesi ad Apocalisse perché il Dio quello che ha operato in Genesi lo opera anche in Apocalisse cioè in quei periodi di tempo che dovranno ancora venire il Dio può operare opera le stesse cose capite è potente da operare le stesse cose ma se uno lo crede questo ha fede in Dio ma se uno non crede in quello che sta scritto non crede che Dio può ancora operare è mancante di fede la sua fede è poca e quindi deve lavorare per aumentare la sua fede ecco perché dico sempre studiate le scritture se avete un problema studiate i passi che riguardano il vostro problema perché perché leggendo quello che sta scritto la tua fede cresce perché la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo quindi la fede è legata a quello che noi crediamo della parola di Dio praticamente quindi se io non ci credo in quello che sta scritto allora non ho fede capite la mia fede è poca ma questo vi serve sia per metterlo in pratica ma anche per mettere alla prova quei fratelli che vi contattano delle comunità i nuovi fratelli che verranno quelli che vi capiteranno vicini voi li dovete mettere alla prova ma tu ci credi a quello che è scritto ti diranno di sì ma certo però poi se tu gli dici ma tu credi che il profeta Elia quando era nel deserto vicino a un torrente dei corvi portavano della carne da mangiare al profeta Elia lì lì vanno in crisi perché quando gli fai le domande generiche ma tu ci credi in Dio tutti dicono sì la maggior parte ti dicono sì però non lo confessano come signore tu gli leggi un passo delle scritture e non ci credono capite quindi quando andiamo nei dettagli è lì che dopo si vede se le persone hanno veramente fede fede oppure no questo è importante attenzione perché il fatto di avere figli non è solo una questione di avere figli per chi li sta aspettando la questione è la fede non è il figlio in se stesso capite il problema di Abramo e del figlio della nascita di Isacco non è ricordato soltanto per la nascita di Isacco cioè l'importanza non sta l'importanza fondamentale non sta nel fatto che comunque sia nato Isacco ma il fatto che Abramo dalla promessa che Dio gli ha fatto fino all'adempimento Abramo ha avuto fede in Dio e non è venuto meno non è venuto meno in questa fede quindi è questa la fede che noi dobbiamo avere dobbiamo credere in quello che ci dice la parola e lo dobbiamo mettere in pratica cosa vuol dire metterlo in pratica che dobbiamo pregare per quella cosa costantemente senza dubitare nel nostro cuore sapendo che il Dio ci esaudirà se vorrà Lui e quando vorrà capite? quindi il tempo è la volontà di Dio che rientra sempre nella volontà di Dio quindi a suo tempo ci sarà non importa se i medici hanno detto che una certa cosa non è funzionante a Dio non importa non c'entra niente e poi sono cose che avvengono nel segreto del ventre della donna cose misteriose all'uomo gli scienziati non sanno cosa succeda effettivamente come una donna rimanga incinta dicono entra qua la sì però sono tutte cose misteriose come possa tutto ciò avvenire capite? quindi nel mistero del ventre della donna avviene qualcosa che alla visita che Dio fa alla donna rimane incinta vedete? e quindi non dipende non è solo una questione scientifica qua non c'entra niente cosa hanno scritto nei foglietti dottori hanno fatto degli esami che poi certe cose possono essere solo dovute a quel periodo in quel momento sei stressato sei in un certo modo e quindi hanno potuto fare dei rilevamenti che sono magari solo di quel momento comunque queste sono cose scientifiche il Dio può andare oltre quindi uno non si deve basare su quello che hanno detto gli uomini uno si deve basare su quello che ha detto Dio sapendo che attenzione io non voglio illudere nessuno perché bisogna sapere che Dio esaurisce se tutto ciò è secondo la sua volontà attenzione e quando esaurisce esaurisce quando viene il tempo giusto quindi né prima né dopo possono essere cinque anni possono essere dieci anni possono essere quello che Dio ha stabilito capite quindi questo è importante ma qui il punto fondamentale non è il figlio il punto fondamentale è avere fede perché questo vuole il Signore questo vuole che noi ci applichiamo tutti ad avere fede chi per una cosa chi per un'altra dobbiamo avere fede è quello che il Signore cerca da noi vuole agire opera in noi per fortificarci e farci crescere nella fede che venga poi un figlio quello è un aspetto secondario perché Dio lo può far venire in qualsiasi momento ma non è quella la cosa più importante la cosa più importante è avere fede con figli o senza figli capite la cosa importante che ci fa entrare nel Regno dei Cieli cioè che mi serve a me avere dieci figli però non avere fede e andiamo tutti in perdizione capite non ha senso quindi l'importanza non deve essere poggiata sulla venuta al mondo di un fanciullino cosa gloriosa cosa che ti riempie di gioia sicuramente ti riempie la casa però c'è anche tanta responsabilità tanta fatica dopo non è più la stessa cosa no per dirvi non è come un giochino che la cosa importante la cosa importante cioè non è un giochino che tu puoi mettere da parte quando sei stanco quando tu sarai stanchissimo lì ci vuole maggiore impegno perché ti richiede maggiore impegno quando tu pensi di aver finito che vuoi andare a letto il bambino si sveglia e devi tenerlo e non si addormenta più così è successo ai miei tre di notte che gironzolavo per la città per farli dormire perché capite c'è tanta fatica ma non è quella la cosa più importante è importante ma non è quella la cosa più importante la cosa più importante è avere fede quindi comunque sia che vengano dei figli o non vengano tu sei chiamato ad avere fede ed è per questo che tu sarai punito se veramente se mancherai di fede e oggi volevo citarvi qualche passaggio per esaminare da questo punto di vista su questo argomento determinate cose per capire fondamentalmente che tutto avviene secondo il piano di Dio capite quindi noi ci dobbiamo arrendere al piano di Dio se tu vuoi andare a destra il Signore non vuole ti troverai la porta sbarrata è inutile che ti arrabbi puoi sbattere la testa per terra al muro ma se quella porta Dio te l'ha chiusa tu non la apri ti devi arrendere ah ma io lo volevo tanto eh sì ma se Dio non vuole la tua volontà non conta nulla capite quindi però attenzione per pregare per determinate cose l'ho detto l'abbiamo detto l'hanno detto anche altri e io lo ripeto ancora voglio che questo vi deve venire in mente come un incubo tutti i giorni cioè bisogna perseverare nella fede e nella preghiera perseverare nella preghiera domandare le cose di cui che desiderate nel vostro cuore senza stancarvi senza stancarvi e senza fermarvi solo se Dio vi dirà basta ma non che mi è sembrato che me l'ha detto no no dovete sentire proprio la sua voce che vi dice basta allora allora basta non mi chiedere più una tale cosa se vi dice così vuol dire che non vi vuole esaudire e non vuole più sentire da voi quella preghiera bene allora non lo chiedete più ma fino a quando Dio non lo dirà a lui come ha fatto con Paolo e anche con Samuele che intercedeva per Saul ma Saul fu rigettato dall'Eterno e quindi Dio che ha le orecchie sensibili che ascolta le preghiere attenzione gli ha detto a Samuele non mi chiedere più una tal cosa come dire mi stai infastidendo ma allora sente tutto e può anche dargli fastidio alla preghiera e sì ed è per questo che interviene e ti dice no non me la chiedere più questa cosa però se è scritto questo noi comprendiamo anche che se Dio non interviene a dirti non me la chiedere più significa che lui vuole che tu gliela chiedi capite che tu gliela continui a chiedere di continuo e questo è il significato di quei passi sia di smettere se te lo dice ma di continuare se invece non te lo dice capite continuare sempre di più a chiedere per essere esauriti se lo desideri se lo desideri non lo chiedi più vuol dire che non lo desideri e allora te lo meriti che non ti venga dato perché hai cessato di domandarlo hai quello che ti meriti praticamente capite ma comunque tutto serve per sviluppare per crescere nella fede capite tutto quello che ci succede alla fine il Signore vuole farlo cooperare per il bene di quelli che amano Dio cioè ci vuole tenere sulla corda per avere fede sino alla fine perché tanto è inutile che hai dieci figli e vai in perdizione i dieci figli quando starai per morire non ti serviranno non ti serviranno capite e allora e allora dobbiamo avere fede quindi chi ha questo problema specifico o chi ha altre malattie qualsiasi dono tu stai aspettando anche di ministeri o stai desiderando i doni di ministeri stai desiderando i doni spirituali tu devi continuare fino a quando Dio non ti dice basta o fino a quando non te ne vai da questo corpo devi continuare quella è fede è una manifestazione di fede in Dio capite insieme allo studio delle scritture e insieme ad altre cose che si manifestano sono opere che manifestano la fede che tu hai tu desideri una cosa non la stai chiedendo a Dio e non hai più non hai fede non credi che Dio te la possa dare per mezzo della tua preghiera e non ci credi e allora se non hai fede non otterrai nulla come dice Giacomo non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore se chiede senza fede lì parlava specificamente della sapienza ma Dio non esaurisce per nulla perché Giacomo dice su tutto poi si riferisce a tutto andiamo a leggerlo in Giacomo Giacomo dice per farvi capire che sì che sta nel contesto parlando della preghiera che si deve fare per chiedere sapienza a Dio ma da un passo che lui dice che scrive comprendiamo che ciò è riferito a tutto 1-6 di Giacomo ma chiede con fede senza star punto in dubbio perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore vedete qui generalizza se questo valeva solo per la sapienza avrebbe scritto Giacomo non pensi già a quel tale di ricevere la sapienza che ha chiesto no qui diceva ricevere nulla quindi è riferito a tutto quello che uno chiede quindi non pensi già a quel tale di ricevere nulla dal Signore essendo uomo d'animo doppio instabile in tutte le sue vie cioè se uno manca di fede è in questa maniera è una persona di animo doppio instabile in tutte le sue vie quando si dice che una persona è di animo doppio si sta dicendo che è una persona senza fede infatti quelli che hanno un animo doppio che ti dicono a te sì sì è vero quello che gli dici delle scritture no gli dice tu gli fai un insegnamento e gli dice sì sì è vero poi viene un altro che gli dice il contrario e dice sì sì è vero anche a quello come sono queste persone sono di animo doppio sono persone che non hanno fede nella parola se no a uno dei due doveva dire no non è così fratello per questo è quest'altro motivo non lo fanno da animo doppio e non hanno fede il problema è sempre la fede per tante cose il comportamento delle persone quello che dicono con la bocca è legato strettamente alla fede che hanno della parola di Dio quando una persona parla io capisco se quella ha fede in Dio oppure no e dovete imparare a farlo anche voi subito dovete riconoscerli queste persone se non li riconoscete subito gli fate qualche domanda li riconoscerete li riconoscete questi parlano si riempiono la bocca in questo genere il Dio mi ha mandato a evangelizzare poi dal Brasile all'Italia faccio un esempio perché è successo proprio in questo caso poi dopo succede che si ammalano e tornano in Brasile per farsi curare ma come se sei stato mandato da Dio a evangelizzare in Italia ti senti male hai un qualsiasi malattia preghi Dio che ti guarisca no se ne vanno a farsi guarire dai dottori brasiliani lì non so per quale motivo e questa è una dimostrazione che non è Dio che li ha mandati capite si riempiono la bocca di tante parole ma alla fine alla fine non hanno fede in Dio comunque tutto questo che sto dicendo era fuori dal non era compreso nei passi della scrittura che volevo citarvi oggi comunque ho ritenuto utili anche quelle parole ma noi andiamo l'altra volta abbiamo parlato di Anna e di Elcana per la nascita di Samuele oggi vediamo qualche altro caso e sì perché di casi di questo genere ce ne sono tanti nelle scritture ne citiamo qualcuno ce ne sono diversi comunque anche Sara la moglie di Abramo era sterile cioè c'era una sterilità che in lei che non permetteva di avere dei figli va bene però il Signore aveva si era il Dio si era manifestato ad Abramo gli aveva fatto la promessa che da Sara sarebbe arrivato un figlio ora leggiamo alcuni versetti che riguardano questo Genesi 21 al versetto 1 l'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva annunziato e questo avvenne dopo tanti anni cioè Abramo la promessa gli fu fatta in un certo periodo e dopo tanti anni addirittura Sara non aveva più il corso ordinario delle donne ecco perché vi dico ma ma che differenza c'è ma se Dio è riuscito a far arrivare dei figli a Sara che a Sara moglie di Abramo che non aveva più il corso ordinario delle donne ma il Dio della scienza delle regole che lui stesso ha determinato nella natura dell'uomo e della donna ma lui le può cambiare quando e come vuole è lui il padrone di tutto capite è lui il padrone di tutto quindi lui fa quello che vuole e se vuole esaudire una persona la vuole visitare ecco che questa rimane incinta infatti qui rileggiamo l'eterno visitò Sara la visitò come aveva detto quindi lo aveva promesso il Dio fa quello che dice non è che lo dice e poi non lo fa non è un uomo che mente che è d'animo doppio capite il Dio quello che ha detto quello che ha promesso egli lo fa e l'eterno fece a Sara come aveva annunziato e Sara concepì e partorì un figliolo ad Abramo quando egli era vecchio al tempo che Dio gli aveva fissato vedete il Dio per far partorire Sara aveva fissato un tempo preciso cioè voi dovete sapere che allora il Dio ha stabilito le epoche va bene delle epoche di cui parleremo parleremo un'altra volta le epoche dei tempi faccio un esempio il tempo della legge va bene da un momento fino a quando non è cessato quel tempo della legge cioè al tempo in cui c'è stato è iniziato il tempo della grazia ma tutti i tempi le epoche sono stabilite da Dio il Dio ha stabilito che in ogni epoca dovevano venire delle persone va bene delle persone chi doveva governare il paese chi doveva fare il contadino chi doveva fare altre cose il Dio ha stabilito anche il giorno della nascita di quelle persone il Dio ha stabilito il giorno della nascita quindi ha stabilito anche il giorno del concepimento non è venuto tutto a caso le cose non sono arrivate non succedono a caso per casualità ma succedono perché Dio le chiama all'esistenza quindi Dio chiama all'esistenza una persona questa la mamma di questa persona rimane incinta perché è visitata da Dio e a suo tempo egli partorisce e lei partorisce quella donna partorisce viene all'esistenza quel fanciullo che avrà un compito nel piano di Dio un disegno c'è un disegno preciso qui lo dice quando dice al tempo che Dio gli aveva cioè Isacco è nato al tempo che Dio aveva fissato non è che è venuto a caso non c'è stato un tentativo riuscito bene casualmente no è avvenuto perché Dio così ha stabilito lo aveva prestabilito addirittura predeterminato come ha determinato anche la nascita gemellare di Esau e di Giacobbe capite Dio ha preordinato ogni cosa cosa ci chiede a noi se lui ha preordinato ogni cosa ci chiede di pregare affinché quello che desideriamo ci venga dato dobbiamo perseverare nella preghiera ma questa perseveranza nella preghiera a chi fa bene a Dio no fa bene a noi perché noi rimaniamo in comunione con Dio quindi la nostra fede persevera nel tempo capite tutto questo serve per il bene dei figlioli di Dio non serve a Dio il Dio non ha bisogno di noi non ha bisogno di nulla capite non ha bisogno di nulla quello che ha bisogno quelli che hanno bisogno di fare le cose che Dio ha stabilito siamo noi perché quelle cose lì che ci fanno del bene quelle cose lì il Dio le ha stabilite per mantenerci fermi nella fede sino alla fine capite per entrare alla fine nel regno dei cieli quindi non dobbiamo mancare quell'appuntamento per non mancare quell'appuntamento dobbiamo seguire tutte le cose che il Signore ha stabilito che noi dobbiamo seguire inciampiamo qualche volta purtroppo nel cammino si può inciampare si può anche cadere ma bisogna rialzarsi perché il sangue di Gesù Cristo è più potente del nostro peccato quindi bisogna rialzarsi non si può rimanere atterrati bisogna rialzarsi chiedere confessare il proprio peccato abbandonarlo chiedere perdono a Dio e andare avanti andare avanti non fermarsi capite? e Abramo pose il nome Isacco al figliolo che gli era nato che Sara gli aveva partorito e così è avvenuto così è stato stabilito da Dio ma Sara abbiamo letto l'altra volta di Anna ma Sara anche qui Sara vedete ma non è l'unico caso ne citiamo ancora altri ne citiamo anche altri perché ce ne sono altri uno dice vabbè uno due no ce ne sono anche altri quindi andiamo a leggere anche la moglie di Isacco era sterile ma come? Abramo si sposa Sara 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 era sterile hanno un figlio di nome Isacco Isacco si sposa Rebecca era sterile pure Rebecca ma ha partorito qualche figliolo anche Rebecca sì è nato Giacobbe capite? è nato Giacobbe Giacobbe si sposa due mogli Lea e Rachele Giacobbe amava in modo particolare Rachele e cosa succede? Rachele era sterile e quindi anche lì sempre gli stessi stessi problemi stesse preghiere perseveranza anche da parte della donna fino a quando non hanno partorito ora leggiamo dove è scritto il caso di Rebecca la moglie di Isacco andiamo rimaniamo sempre in Genesi più avanti leggiamo dove leggiamo la nascita di Esau di Giacobbe quindi leggiamo da capitolo 25 di Genesi al versetto 19 e questi sono i discendenti di Isacco figliolo di Abramo Abramo generò Isacco e Isacco era in età di 40 anni quando prese per moglie Rebecca figliola di Betuel l'arameo di Paddan Aram e sorella di Labano l'arameo Isacco pregò istantemente l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile cosa vuol dire quella parola quell'avverbio istantemente quella parola istantemente vuol dire che Isacco pregò a ripetizione con tanta insistenza ecco cosa significa quella parola adesso nella nuova riveduta chi legge la nuova riveduta non so che parola mette andiamola a vedere anche lì quindi siamo a 25 di Genesi 25 19 25 19 Isacco aveva 40 anni quando prese moglie Rebecca figlia di Betto e l'arameo Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca perché ella era sterile non rende bene per quello vi dico io studiate è preferibile studiare perché io la conosco meglio studiare dalla Bibbia Luzzi tenendo tenendo da conto anche le altre versioni non come sto facendo io adesso ad esempio però mentre nella nuova riveduta non rende l'idea non rende l'idea questo passaggio biblico è mancante nella nuova riveduta perché nella Luzzi dice che ha pregato si implorò l'eterno certo come dice nella nuova riveduta però nella Luzzi dice implorò l'eterno istantemente e cosa significa istantemente? significa che la preghiera di Giacobbe scusate di Isacco è stata ripetuta e insistente proprio come ha detto Gesù con la vedova e il giudice iniquo è andata lì la vedova a chiedere di continuo con insistenza fino a quando è avvenuto il momento fino a quando è avvenuto il momento per 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 essere esaurita quella donna quella vedova per avere giustizia e qui Isacco ha dovuto aspettare aspettare tanti anni per ottenere l'esaudimento della sua preghiera quindi ha pregato con insistenza a ripetizione fino a stancare a diciamo non ha dato pace all'iddio vivente vero voleva che ci fosse una discendenza e poi Dio l'ha esaudita infatti è scritto Isacco pregò istantemente l'Eterno per sua moglie perché era sterile vedete lo dice era sterile la moglie di di Isacco e Dio l'esaudì quindi scientificamente secondo la biologia del corpo quella donna non poteva avere figli ma è Dio queste cose non le guarda non gli interessano capite quando un uomo è morto il Dio lo risuscita il Dio è potente da farlo capite il Dio lo può fare e lo fa quando vuole lui e come vuole lui e dice ancora l'Eterno l'esaudì e Rebecca sua moglie concepì e i bambini si urtavano nel suo seno ed ella disse se così è perché è vivo e andò a consultare l'Eterno vabbè poi c'è tutta una storia perché dentro il suo ventre c'erano Esau e c'erano Giacobbe capite ma a noi ci interessa adesso quella parte in cui quella donna la moglie di Isacco Rebecca era sterile e Dio l'ha fatta lo stesso partorire perché perché la preghiera sicuramente anche di Rebecca ma qui la scrittura dice la preghiera di Isacco fatta con costanza a ripetizione in maniera insistente è stata esaudita va bene la preghiera di Isacco è stata esaudita questo cosa ci fa capire siccome Dio non è mutato l'abbiamo detto prima il Dio non è mutato allora cosa dobbiamo fare noi abbiamo bisogno di una cosa di una guarigione di un figlio di un lavoro di qualsiasi cosa tu abbia bisogno tu la devi chiedere con insistenza al Signore ti devi inginocchiare faccia a terra e pregare Dio con insistenza non gli devi dare pace cioè deve venire a dirti o ti dice no non me la chiedere più questa cosa che non te la ha deciso di non dartela oppure te la deve dare talmente gli date non di fastidio talmente siete insistenti che quella cosa ve la deve dare il Signore oppure vi deve dire di non chiedergliela più capite questo è importante ma tutto questo cosa opera nel cuore di chi prega alimenta la fede è una manifestazione di fede è una manifestazione di quello che tu credi di Dio e della parola di Dio capite ecco come è importante insistere in preghiera perché così tu manifesti la fede non stai pregando ti sei fermato oppure tu stai chiedendo velocemente così ma non sei convinto e non hai fede non otterrai nulla dice Giacomo non otterrai nulla vedete voi cosa è conveniente fare giudicate da voi stessi da persone intelligenti se avete faccio un esempio ci sono anche i mariti figli non convertiti cosa facciamo smettiamo di pregare per loro no noi continuiamo a dare fino a che Dio non ci dirà basta fino a che Dio non ci dirà non pregare più per questa cosa noi continueremo a farlo con fede questo è importante bisogna continuare a farlo con fede senza venire meno nella fede e questa è la cosa importante che rimane nel tempo della preghiera l'esaudimento quando viene diciamo è la corona di quello che si è lavorato in tutto il tempo ma tu sei rimasto fermo nella fede tutto il tempo quindi non si deve considerare solo l'ultimo momento in cui tu ottieni l'esaudimento della preghiera devi anche considerare che pregando tutto il tempo tu sei rimasto fermo nella verità e nella fede capite sei rimasto in comunione con Dio quindi quella attesa quell'aspettazione della cosa ti è servita ti servirà quindi non dobbiamo neanche avere fretta noi dobbiamo dire signore quando sarà il tempo esaudiscimi signore questo tempo che ancora non mi ha esaudito aiutami a capire a imparare a crescere a bere tutti gli insegnamenti che tu mi vuoi dare una bevanda anche se è amara anche se è dura da masticare però serve capite? serve quindi la dobbiamo vivere pienamente giorno dopo giorno la dobbiamo vivere perché quel giorno dopo giorno che ce la insegna cioè ci sono degli insegnamenti non è che possiamo dire vabbè mi spengo mi riaccendo fra vent'anni no? mi addormento adesso mi risveglio fra vent'anni quando sarà il momento che Dio mi esaudisce no 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 tu devi vivere tutti i vent'anni giorno per giorno fino a quando Dio non ti esaudisce perché è qui che stai crescendo stai crescendo stai diventando un uomo o una donna di Dio stai diventando maturo stai facendo esperienza dopo sarai in grado di aiutare chi avrà bisogno se non fai esperienza se non ricevi sapienza se non soffri tu non sei in grado di aiutare nessuno capite? quindi bisogna bisogna vivere le esperienze che Dio ci fa vivere anche quando sono dure senza ripianti senza pregare Dio inginocchiarsi c'è un insegnamento in ogni cosa in ogni dolore c'è un grande insegnamento quindi dobbiamo inginocchiarci e chiedere signore io voglio imparare voglio imparare quello che tu mi vuoi insegnare anche da questo dolore che sto vivendo quindi non bisogna trascurare gli insegnamenti che Dio che Dio ci vuole dare con queste cose ma non solo quindi abbiamo detto Isacco Rabbeca partorì Giacobbe poi è il turno di Giacobbe Giacobbe anche lui è un servo di Dio allora di Giacobbe delle mogli di Giacobbe che lui ne ebbe due però per una questione che vi potete andare a leggere perché lui voleva Giacobbe voleva sposare solo Rachele però è stato ingannato e gli hanno dato per moglie prima la figlia più grande di Labano Lea e dopo gli hanno dato in esposa anche Rachele però in realtà Giacobbe voleva sposare solo voleva voleva sposarsi solo con 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 Rachele comunque si trovò alla fine con due mogli e anche quello era tutto opera di Dio perché da Chele e da Lea vennero poi le dodici tribù le dodici tribù di Israele le dodici tribù di Israele era un piano che Dio aveva fatto era un piano che Dio aveva già stabilito quindi vennero vedete vennero da quelle due mogli quindi era tutto sotto il controllo di Dio avveniva tutto secondo il piano che Dio che Dio aveva aveva determinato e qui leggiamo queste parole che riguardano Lea e che riguardano Lea e Rachele 29 di Genesi al versetto 31 l'Eterno vedendo che Lea era odiata l'ha rese feconda quindi qui dice la scrittura che Lea gli fu imposta a Giacobbe non la amava attenzione e quindi era più era amata Rachele però cosa fece Dio rese feconda vedete chi la rende feconda la donna è sempre il Signore vedete Lea fu resa feconda mentre Rachele era sterile dice la scrittura ma Rachele era sterile e Lea concepì e partorì un figliuolo al quale pose nome Ruben perché disse l'Eterno ha veduto la mia afflizione ebbe diversi figli fino a quando a versetto 35 dice cessò da avere figli quindi i figli arrivano il numero esatto che Dio vuole far arrivare può far cessare come poi può far ricontinuare a partorire dopo un determinato numero di anni come la sorella ha detto ha detto io per avere il mio terzo figlio il mio quarto figlio ho aspettato tanti anni ne ho avuti magari un paio tutti vicini no? e poi per averne altri devi aspettare degli anni perché Dio così ha stabilito il Dio per far venire all'esistenza le persone gli uomini e le donne ha stabilito il momento preciso non è che vengono così a caso capite? e quindi tutto questo deve farci riposare nelle mani di Dio perché il Signore sa quello che sta facendo il Signore sa che tutte le cose devono avvenire al momento opportuno che Lui ha stabilito non quando vogliamo noi non quando decidiamo noi ma quando Lui vuole e quindi vedete la stessa cosa è toccata anche a Rachele poi dopo Dio la rende più avanti c'è scritto Rachele nel capitolo 30 nel versetto 1 Rachele vedendo che non dava figlioli a Giacobbe portò invidia alla sua sorella e disse a Giacobbe dammi dei figlioli altrimenti muoio ecco quando noi non abbiamo una cosa e altri invece sì la cosa sbagliata che bisogna che a cui da cui bisogna guardarsi perché ci sono anche dei pericoli nell'aspettare l'esaldimento della preghiera ci sono degli attacchi del maligno che cerca di scoraggiarci ci sono anche delle cose che scattano nella nostra carne nel nostro cuore una di queste può essere l'invidia cioè io non ho figli l'altro ce li ha e può scattare un'invidia come è successo per Rachele che ha cominciato a invidiare la sorella che cos'è l'invidia l'invidia è un sentimento interiore negativo un malanimo che uno prova vedendo che gli altri c'erano una determinata cosa mentre noi magari non ce l'abbiamo questo cosa porta questo sentimento porta ad avere un sentimento negativo verso quella persona un rancore un'avversione la vedi come una persona vorresti che gli succedesse del male ecco questo è uno dei rischi che possono correre quando si sta aspettando l'esaudimento di una preghiera perché se senti una persona che ha quello che tu non hai e che desideri da tanto tempo stai attento non farti prendere dall'invidia perché perché purtroppo può scattare anche questo dentro la nostra carne dentro la carne perché nella nostra carne abita il peccato ed è un attimo che possiamo fare spazio a questa cosa a cui non dobbiamo fare assolutamente spazio capite quindi fate attenzione se state aspettando l'esaudimento di una preghiera e altri invece hanno quello che voi desiderate state attenti a non farvi prendere da questo sentimento perché l'invidia è una carie dell'ossa tu guardi gli altri e non vivi la tua vita ti consumi diciamo interiormente ti consumi sperando il male di quell'altro questa è l'invidia cosa che il credente non deve assolutamente assolutamente sentire quindi guardatevi ho citato questo passaggio di Rachele appunto per ricordarvi che l'invidia non è una cosa buona non è una cosa buona bisogna stare attenti faccio un esempio uno può essere può avere determinati doni spirituali può essere può avere dei doni di ministerio può avere tanta conoscenza della parola e noi non dobbiamo portargli invidia anzi dobbiamo prenderlo come esempio anche noi vogliamo quelle cose capite quindi bisogna fare attenzione questo dell'invidia può riguardare qualsiasi cosa quindi fate attenzione è una situazione molto negativa quella di farsi prendere dall'invidia perché è un sentimento che nasce nel cuore e vi toglie la comunione con Dio perdete perdiamo perdiamo la comunione con Dio se ci facciamo vincere da questo sentimento quindi cacciate via tutti i sentimenti negativi da dentro di voi cacciatele via mandatele via perché non devono stare che vi rovinano la comunione con il Signore è certo se guardi gli altri allora gli altri vanno guardati con benevolenza cioè siccome ognuno di noi deve vivere la sua storia è inutile che guardiamo la storia degli altri cioè noi dobbiamo imparare dalla storia degli altri come stiamo imparando dalla storia di Rachele di Abramo Esancho e Giacobbe noi stiamo guardando per imparare da loro allora questo si può fare ma se noi guardiamo gli altri e poi diciamo ah vedi a lui gli ha dato un figlio non se lo merita quello è drogato e ha un figlio io invece sono un uomo santo buono e giusto e non ho figli e questo è un ragionamento stai accusando Dio di avere sbagliato qualcosa tu sei giudice giudice dell'operato di Dio e Dio fa quello che vuole tu chi sei ma tu chi sei che giudichi Dio il rotame tra i rotami quindi non ti permettere di giudicare quello che Dio sta facendo sa lui cosa sta facendo tu pensa alle cose che devi fare tu che è meglio quindi quando ti guardi attorno devi guardare per imparare qualcosa non per sviluppare invidie e sentimenti negativi non guardarti attorno perché ognuno ha la sua vita e la sua storia capite soprattutto se stai guardando a un non credente se stai se stai invidiando un non credente sei uno sto perché il non credente sta precipitando all'inferno tu che sei credente stai precipitando pure tu all'inferno perché stai invidiando un non credente quella è una stoltezza che non si può che non si può non si può non si può proteggiare praticamente non si può pesare talmente grave quindi guardate bene di conoscere queste cose di farle vostre di meditarle e di rigettare ogni invidia perché vi fa vivere male vi fa vivere male voi vivrete male e perderete la comunione con Dio quindi bando all'invidia non guardate gli altri con sentimento di invidia semmai guardate gli altri per imparare dalla loro storia qualcosa poi Rachele abbiamo visto invidiato a un certo punto anche invidiato poi è avvenuto che anche Rachele partorisce perché Dio si è ricordato anche di Rachele al versetto 3 capitolo 30 di Genesi al versetto 22 il Dio si ricordò anche di Rachele il Dio l'esaudì e l'ha rese feconda ed concepì e partorì un figliolo e disse il Dio ha tolto il mio obbrobrio e gli pose nome Giuseppe dicendo l'Eterno mi aggiunga un altro figliolo vedete il Dio si è ricordato anche di Rachele e l'ha resa feconda ma come era sterile e Dio l'ha resa feconda allora è Dio che rende sterili e che rende fecondi e lui non è la scienza la biologia del corpo umano non dipende da quello è Dio che rende fecondi e Dio che rende sterili perché perché le persone vengono all'esistenza nel momento che Dio ha stabilito ecco qua scoperto l'arcano il mistero da questo cosa dobbiamo fare dobbiamo e cosa ci chiede di fare in attesa di che una moglie diventi feconda che Dio operi per questo nel frattempo bisogna pregare perché dietro a tutte queste cose ci sono sempre numerose preghiere fatte con fede quindi questo ci è chiesto di fare e questo lo dobbiamo fare e poi tanto questa lezione ti servirà per tutto perché tu non è che chiedi una cosa sola a Dio non hai bisogno solo di un figlio tu hai bisogno di un lavoro hai bisogno di una casa hai bisogno di mangiare tutti i giorni hai bisogno che dopo che ti nasce il figlio che Dio lo protegga da ogni male hai bisogno che a un certo punto il Dio lo salvi hai bisogno a un certo punto che Dio lo preservi da ogni sventura dalle cattive connie quindi tu che hai ricevuto un figlio sei stato esaudito hai appena iniziato a pregare hai appena iniziato non hai raggiunto nulla non hai non sei arrivato alla fine di nulla hai appena iniziato con quel bambino capite quindi bisogna darsi da fare la lezione l'hai imparata speriamo speriamo bene se l'hai imparata mettila in pratica tutti i giorni perché adesso dovrai pregare perché quel bambino nasca sano poi dovrai pregare che quel bambino non gli succeda nulla dovrai pregare che Dio gli dia sapienza e intelligenza e che lo salvi quindi hai appena cominciato il tuo lavoro nella preghiera è così per ogni altra cosa capite quindi datevi da fare tutti quanti fratelli diamoci da fare perché vedete come la preghiera è un motore molto forte nei confronti di Dio è quel profumo che sale all'eterno come un sacrificio di odor soave che arriva all'eterno ecco cosa sono le nostre preghiere perché noi siamo siamo sacerdoti dell'Idio Altissimo e noi rendiamo il nostro culto spirituale noi siamo sacerdoti e offriamo i sacrifici diciamo non quelli previsti dalla legge ma offriamo i sacrifici che quelli della legge erano ombra delle cose che dovevano avvenire le nostre preghiere sono il sacrificio di odor soave sono il profumo che sale all'eterno quindi noi dobbiamo far alzare più profumo possibile le nostre preghiere a Dio capite e noi riceveremo come ha detto Gesù la ricompensa ogni preghiera avrà la sua ricompensa se fatta nella maniera giusta avrà la sua ricompensa quindi non vi fermate pregate Dio chiedete qualsiasi cosa di cui avete bisogno perché Dio è potente da farlo e ne avrete la ricompensa va bene quindi non vi scoraggiate non vi fermate non importa quanti anni sono passati non lo voglio neanche sapere tu ogni giorno lo chiedi fino a quando Dio non ti dice basta oppure fino a quando non te se ti esaudisce non hai più bisogno di chiederlo quello e se ti dice basta vuol dire che non gliela devi chiedere più quindi però questo è il termine quando deve venire il termine della richiesta se non ci sono queste cose voi continuate come un treno in corsa non vi fermate non importa se non vedete subito la nuvoletta che viene dall'orizzonte stai pregando per la pioggia non vedi la nuvola non fa niente tu continua a pregare la nuvola verrà la nuvola verrà stai tranquillo e questo era era anche Rachele la moglie di Giacobbe adesso leggiamo anche nel nuovo testamento voglio leggervi anche una nel nuovo testamento perché uno dice vabbè ma solo dal vecchio a parte che ecco ci tengo e ve lo spiegherò meglio nell'epoca quando spiegherò i vari periodi che sono indicati nella scrittura a parte che il libro della Genesi non è la legge capite perché perché la legge di Mosè ancora non era stata data quindi quello lo chiameremo il principio infatti si chiama Genesi principio quello è il periodo di tempo particolare che comunque era ancora diciamo valeva valeva non c'era ancora la legge che racchiudeva tutto nel peccato e lo stesso le persone anche in quel periodo chiamato il principio le persone erano gradite a Dio per mezzo della fede come lo sono adesso infatti Gesù si riferisce al principio come esempio di fede per contrastare qualcosa che riguarda la legge ad esempio il matrimonio che Mosè ha permesso di sposarsi più più donne mentre al principio non era così nel libro al principio Dio aveva stabilito che una sola moglie doveva essere la moglie di suo marito anche se poi Dio nei suoi disegni vediamo che alcuni hanno avuto più moglie però il principio era quello che bisognava avere una moglie soltanto e ora andiamo a leggere nel Vangelo di Luca vediamo cosa è successo in capitolo 1 del Vangelo di Luca dal versetto 8 c'era Zaccaria che era sommo sacerdote di quell'anno che aveva una moglie faccio questa premessa aveva una moglie di nome Elisabetta e la moglie era sterile non aveva figlioli Zaccaria quell'anno entrò nel luogo santissimo nel luogo per offrirvi tocco a sorte di entrare nel tempio del Signore e offrirvi il profumo entrò nel tempio e offrì il profumo e lì ebbe una visione ora vediamo leggiamo appunto come lo spiega Luca ora venne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta secondo l'usanza di tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo e gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi e Zaccaria veduttolo fu turbato e preso da spavento ma l'angelo gli disse non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale porrà il nome Giovanni e tu ne avrai gioia ed allegrezza e molti si rallegreranno per la sua nascita poiché sarà grande nel cospetto del Signore non berrà né vino né cervogia e sarà pieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti a fin di preparare al Signore un popolo ben disposto e Zaccaria disse all'angelo a che conoscerò io questo perché io sono vecchio e mia moglie è avanti nell'età e l'angelo rispondendo gli disse io sono Gabriele e sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo vedete quindi anche Elisabetta moglie di Zaccaria era sterile non aveva figlioli Zaccaria era avanti nell'età ormai e sicuramente della moglie dice e mia moglie è avanti nell'età pure la moglie vuol dire che magari era arrivato il momento il periodo che non poteva più avere figli ma il Dio non ha queste cose cioè il Dio governa tutte le cose quindi non è che per il Signore è impossibile far partorire una donna di 50 anni per dire il Dio fa quello che vuole magari lasciare 90 anni diciamo che uno non ha neanche più le forze per badare neanche il il bambino dopo che nasce però a 50 anni a 50 anni ce li hai ancora e comunque se non ce li hai il Dio ti può sempre dare anche le forze il Dio fa quello che vuole lui però così è avvenuto a Elisabetta Zaccaria addirittura non ha creduto cioè Zaccaria ha guardato al suo corpo svigorito al corpo della moglie che era svigorito cioè ormai era avanti nell'età e ha detto ma come può avvenire questo no? da che conoscerò io questo? perché quindi ha dubitato infatti l'angelo l'ha ripreso l'angelo Gabriele ha ripreso Zaccaria per la sua incredulità e lo ha punito lo ha reso muto e anche sordo anche se c'è scritto solo muto però siccome in un punto c'è scritto che gli parlavano con i segni perché se uno è solo muto ma sente è più facile parlargli ma se tu gli parli e lui non sente oltre ad essere muto allora gli devi parlare con i segni perché in un punto delle scritture è scritto che a Zaccaria gli parlavano con i segni capite? quindi vuol dire che non sentiva perché se sentiva ed era solo muto allora gli avrebbero parlato e non fatto dei segni per comunicare con lui e così Zaccaria vedete la moglie di Zaccaria è rimasta incinta ed ha partorito ed erano anche loro avanti nell'età questo perché Dio fa quello che vuole a suo tempo guardate cosa dice l'angelo che conferma quello che stiamo dicendo fino a tempo dice così perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a suo tempo vedete c'è un tempo prefissato per la nascita allora Elisabetta era sterile doveva nascere Giovanni Battista quando doveva nascere Giovanni Battista prima della venuta poco prima della venuta di Gesù Cristo quindi non poteva nascere tanti anni prima capite non poteva benché Zaccaria l'aveva chiesta da tanto tempo infatti l'angelo dice all'inizio all'inizio quando incontra Zaccaria dice non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita e sicuramente Zaccaria ha fatto questa preghiera dal momento in cui si è sposato fino a quando sono arrivati avanti nell'età Zaccaria ha fatto questa preghiera ed è stata esaudita è venuto il momento che sia esaudita quando è venuto il momento quando Dio lo ha prefissato perché Giovanni Battista doveva venire poco prima della nascita di Gesù prima veniva Giovanni Battista e dopo Gesù non poteva nascere Giovanni Battista tanti e tanti anni prima capite era tutto era stato tutto preordinato da Dio che avvenisse in una certa maniera ecco apro una parentesi qui vi dico subito e poi un giorno ne parleremo più dettagliatamente che Giovanni Battista non è Elia Giovanni Battista non è Elia perché quando gli hanno fatto la domanda i giudei che gli hanno fatto la domanda gli hanno detto tu sei Elia lui ha detto no non sono Elia Giovanni Battista non è Elia anche se ci sono dei passaggi biblici che lo vorrebbero far intendere no perché Elia deve ancora venire Giovanni Battista è venuto prima della venuta di Gesù in carne Elia deve tornare Elia a profettizzare prima tre anni e mezzo prima di quando Gesù Cristo ritornerà capite quindi Elia deve tornare deve venire come è scritto nel profeta Malachia Giovanni Battista non è Elia quindi questo ve lo ve lo preannuncio visto che l'abbiamo toccato e un giorno ne parleremo specificamente dei passi che riguardano Elia Giovanni Battista che l'uno non è l'altro capite che Elia non è morto e quindi Giovanni Battista è nato cioè Elia è nato da sua madre e poi non è morto mentre Giovanni Battista è nato il padre Zaccaria e la madre Elisabetta quindi sono due persone distinte separate ed Elia deve ancora venire praticamente deve venire ancora come è scritto di lui deve venire poco prima che venga il Signore Gesù Cristo che ritorni a rapire la sua chiesa quindi come dice sempre rimanendo nel Vangelo di Luca voglio chiudere questo discorso di avere fede in Dio in tutto quello che domandate leggendovi quello che Luca scrive al capitolo 11 capitolo 11 di Luca al versetto 9 io altresì vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto poiché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia e chi è quel padre tra voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domanderanno a coloro che glielo domandano quindi vedete qui c'è scritto che i figlioli di dio devono domandare tutto al signore con insistenza ma l'ultimo versetto il 13 dice che bisogna domandare anche lo spirito santo perché dio lo darà a coloro che glielo domanderanno qui sta parlando del battesimo con lo spirito santo perché gli increduli non domandano lo spirito santo lo domandano quelli quindi il battesimo con lo spirito santo lo domandano quelli che sono salvati quelli che hanno dio come padre celeste ecco quindi questo versetto è importante per contrastare i cessazionisti perché i cessazionisti dicono che non c'è scritto nessun passaggio biblico dove dobbiamo pregare per ricevere il battimento con lo spirito santo ecco mentono è una bugia perché qui Gesù lo ha insegnato ha detto se voi lo ha fatto in un certo modo però lo ha fatto lo ha detto se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donnerà lo spirito santo a coloro che glielo domanda e noi qual è lo spirito santo che domandiamo è il battesimo con lo spirito santo è il riempimento di spirito santo capite quindi vedete che è scritto vedete ancora una volta che i cessazionisti si sbagliano che mentono e bisogna guardarsi da questi bugiardi ignoranti e instanti e doppi di cuore doppi d'animo perché non hanno fede non credono nella parola di Dio questo lo leggono anche loro ma non lo intendono vedete se Dio non gli dà intendimento come intenderanno non possono intendere però voi guardatevi e state attenti dai cessazionisti perché purtroppo fanno tanti ragionamenti insensati e scoraggiano le persone da pregare per ricevere i doni potenti di Dio quindi voi continuate a domandare domandate tutto quello che desiderate che il Signore poi vi esaudirà su quelle cose che lui ha stabilito che debbano essere date a voi capite che se uno chiede io voglio diventare apostolo ma tu non è nel piano di Dio ma tu devi diventare profeta o devi diventare dottore o pastore tu non otterrai l'esaudimento del ministerio apostolo però riceverai qualcos'altro le sorelle possono accedere al ministerio di profeta quindi vedete il ministerio è aperto anche alle donne ma quello dove non c'è insegnamento ed è il ministerio di profeta infatti nella scrittura voi leggerete che ci sono profetesse e questo è biblico è corretto perché il profeta non insegna il profeta riporta fedelmente la testimonianza che Dio gli ha dato o in sonno in visione una voce audibile gli riporta delle cose e la sorella deve riportare a chi va il messaggio lo deve riportare fedelmente esattamente così come a quella persona quindi vedete il ministerio di profeta è aperto anche alle sorelle quindi non è vero che le donne non possono fare nulla le donne possono fare quello che Dio gli dà di fare capite così come anche gli uomini gli uomini possono fare tutto anche gli uomini fanno quello che Dio gli dà di fare non quello che vorrebbero fare ma quello che Dio gli dà di fare e questo fratelli e sorelle il Signore diciamo voleva aggiungere dal punto di vista biblico alla testimonianza di oggi del fratello Emanuele diamo gloria a Dio perché il Signore è la prova vivente questa testimonianza che ancora oggi il Dio esaudisce può passare del tempo ma Dio esaudisce quindi la vostra fede non venga meno che non venga mai meno la vostra fede chiedete quello che desiderate ogni cosa che voi desiderate rendete la nota a Dio in preghiera e aspettate l'esaudimento capite aspettate che Dio esaudisca a suo tempo a suo tempo ci sarà l'esaudimento non prima e neanche dopo a suo tempo secondo la volontà di Dio e questo era il messaggio che volevo avere il cuore di portarvi per esortarvi ad avere fede e a pregare il Dio in ogni cosa a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amèn di Dio di Dio di Dio